mi stai dicendo che devo noleggiare un cavallo? ok ho il cavallo oh bene cioè cavallo ronzino cioè in prestito si voglio noleggiare ma che bello io vi attendo qui comunque all'ingresso della nostra mappa arrivo la carovana perduta trova i carri della carovana bello eccovi qua presente volete fare una delle mie? sai che forse Valpurgis però è un po' basso così a occhio mi sa per per farne una delle nostre ma che bello cavallo sporco di merda nel senso però brada mirror canzire è ancora nell'enclave del protettore si mi sono perso scusate questo è veloce dai dai per voi è una cazzata seguimi e basta è velocissimo dove sei? sto salendo ecco sei lì sali sali si vedo par con dio in lontananza adesso vedo anch'io la caravana perduta come vieni vieni come missione dobbiamo trovare i carri della carovana e sarà facile c'è d'altronde ci sono carri e carro sia ma dov'è brada mirror canzire quando serve? quando quando serve e qui non vedo né brada mirror né urcan zeer né toddy allora uno trovato cosa c'è qua di bello cosa c'è qua di bello? a parte un bastardo che si nasconde nelle frasche frasche penso che erano le frasche fresche che schifo ok scendiamo io non lo vedo perché te mi sa che non ce l'hai la quest non hai condiviso la quest condividi la quest con brada mirror canzire non ho condivisa la quest con brada mirror canzire ma probabilmente l'ha già fatta no ma no no l'hai condivisa con brada mirror canzire non con brada mirror canzire ah deve essere per quello allora condividi ora l'hai condivisa no oh che vittura io grazie al cielo siamo due su quattro ottimo io ho uno su quattro perché uno su quattro? dobbiamo rifare l'altra è che vittura dopo e che palle blu cosa? avidità merda oh 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 no ma aspetta un attimo questo te lo regalo volentieri tu sei un guerriero pesantemente armato? incazzato sei un guerriero pesantemente armato? incazzato stai fermo lì che devo commerciare cosa mi dai cosa mi dai cosa mi dai e ti do quello che ho vinto prima no invece lo posso mettere del ultra consigliato oh bella lì un bel colpaccio questo notevole grazie sottolineare che se l'aveste vinta brada mirror canzire a quest'ora l'avrebbe venduta al mercato nero non è vero insieme ai suoi reni passimo corretto via chi è Rafiki? Rafiki è mia Rafiki è la è la guerriera lì la Cell Sword Cell Sword è lente scopabile? no siamo due lesbicone noi quindi pesantemente scopabile volente o non volente perché è facile capire le lesbiche scusa come si fa a dirvi no la figa su a destra su a destra qua ah brada mirror canzire ne manca sempre una in più giusto? si adesso sono dietro si no vabbè sono 3 su 4 eh te ne manca sempre una noi siamo a 4 su 4 credo adesso dobbiamo fare a caccia di cacciatore che siamo già qua che è tutta nella zona di là dobbiamo andare dall'altra parte saldi saldi soldi 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 i money money i dinero sai che non vedo ancora il percorso di impresa a caccia di cacciatore tra l'altro dobbiamo anche dobbiamo anche presentare la caravana perduta eh si dopo prima facciamo questo poi presentiamo dai hai sentito brada mirror canzire pur giù si usa ancora le pozioni avidità ma vaffanculo no ho vinto io si che bella eh già eh già siamo a 6 su 10 muorici certo che con sta nuvola che appare ogni tanto mi sembra di tornare a Varese ma a me sembra di tornare a Verbagna ti dirò o piove strano colpa mia cazzo necessita sei in pavora vinto sei in pavora vinto eh ma che palle oh bella una bella pietra runica ti fa sempre piacere oh ma che bella la pietra runica ma c'è uno solo si te muori ho vinto una fortuna pietra di merda ha vinto tutto il residuo quello lo volevo io non hai già t'abbastanza merda nella tua non è mai abbastanza vuoi anche un oggetto che si chiama residuo e quello è comodo eh anche per i mestieri è comodo è meglio della pasta lavamare dove sei valutus ma fai insomma voi io ho da recuperare il pezzo di caravana che mi manca vi raggiungo bravo bravo guarda che puoi saltare puoi saltare anche col cavallo eh wow le belle cose della vita e allora la situazione adesso è che a bradamiru canzir si è perso bradamiru canzir lo vedo da dietro che saltella dalla montagna all'altra ah è quello lì cavoli che reggiatria andiamo a ammazzare Krogfug andiamo a ammazzare Krogfug che cos'è? ah è la miniera nascosta eeeh si andiamo ha giudicato ma è tira come è predefinita nessah dove vai? è di qua a me da di qua a me no a me andava di là ah no adesso da di qua penso che il tuo TomTom abbia bisogno di un aggiornamento non ha delle rotole no è il cavallo che c'è anche un po' di diarrea non ha delle rotole spurco o è proprio brutto così? è proprio caccao è proprio caccoso è un cavallo cacato e ma sai quelli un pochino così è gratis non è che a doleggio a nolo possono anche essere belli no c'era una cosa qua l'ho perso cos'è che c'era? niente ho un cavallo a nolo eccoci diamo Imo Imo Imo's Barbary bradami non fa in tempo entrare che già rompe il cazzo la gente ma io non lo so hai visto che faccio piovere anche nei dungeon io? ma porca troia ma con che gente mi trova giocare? ma sempre se pioverà per sempre pioverà per sempre esatto dove è il kit dungeon? nell'altra con la fianco che scende eh no ma qualcuno l'ha già fottuto mi sa eh io ah tu l'hai preso kit dungeon è mio cazzo sono un guerriero pesantemente incazzato io mangio brasato alla sera e tu sei un guerriero pesantemente armato? io pesantemente incazzato ci servono dei gambali letali? eh se sono incazzati si saccheggia necessità se è un pavolo porca merda ah eeeh che cazzo da ridere guarda che salti che fanno hai visto che ci sono dei pezzi enormi di statue qua sotto? ho notato video ho notato crag fu 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 crag è un topo marcio un topo marcio esatto hai notato come abbiamo cambiato incredibilmente zone sempre in che senso? che dalle fogne siamo passati e sono sempre i topi oh quelli gli stivai dal passo lungo mi servono no peccato che vi ho vinti io no però non te ne fai niente a me dalle verdi eh adesso riguardo secondo me non te ne fai proprio una cippa adesso riguardo porta destra e porta sinistra vabbè a destra una nana tutta tana abbiamo salvato il minatore oh io ho trovato l'alto l'arco lungo dei terroni buscosi terroni io globo della protezione terrore i bull terreni il globo della proiezione che non me ne faccio una cippola anche io me ne faccio una sega al quadrato sì anche quello che è andato a me è più potente quello che ciò tu pensa ed è di livello inferiore quindi questo è quello che si diceva del fatto che effettivamente c'è il rischio di arrivare in zone un po' basse che ti offrono ricompense un po' basse per come è strutturato il team player va bene direi che anche questo video lo possiamo chiudere qua cosa dite consegna mi sembra d'ammirare un canzire d'accordo si 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 d'accordo di ciò va bene spolliciate ringraziate salutate commentate e cacate che mi sembra anche la cosa principale e per tutto il resto ciao a tutti ciao il caretto passava quell'uomo gridava gelato non era gelato dipende